prezzo di gta 6 allora take two il ceo di take two ha detto perché il gta 6 uscirà nell'autunno del 2022 perché di solito si decide una data in base ai bug da risolvere non solo ma ok nel caso di gta 6 non è questione di bug da risolvere ma è questione di raggiungere la perfezione commenta questa cosa posso essere solo che contento però loro non stanno facendo niente per smorzare un attimo live cioè per fare cose che non sono mai state fatte prima bene voglio vedere che cosa infatti ho detto nessuna pressione rockstar games finora quello che si è visto sembra bello ma allo stesso tempo si è visto un cazzo a livello di gameplay no quindi i game face ci saranno perché sennò li denuncio cosa consisteranno queste novità lo sapremo ma per adesso ci possiamo solo basare sulle parole di chi l'ha detto strauss zelnick sì che dice che ci saranno novità incredibili va bene vediamole vediamole e poi però per quanto riguarda il prezzo perché uno dice ma un gioco così mai visto prima che costerà 80 euro non può essere non è tanto più allora per me questa è una cazzata vedi che non ha senso però lui non ha smentito no no vedi questa è una cazzata che non ha senso dibattere sul prezzo di gta 6 secondo me è un discorso che abbiamo introdotto noi stessi consumatori gli abbiamo abbiamo dato all'azienda l'opportunità di farlo sto discorso vedete quanto siamo scemi certe volte e no stavolta non parlo di me nello specifico di voi nello specifico ma tanti hanno detto beh sto gioco non potrà costare 80 euro secondo me quelli lo volevano fare costare 80 ma adesso sono giustificati appena si è diffusa sta facendo ma sai che forse lo possiamo fare costare se non fanno altro che chiedere sta cosa ma che cazzo ma scusatemi c'è una convenzione che è il prezzo che finora è stabilito a 80 euro che già è più alto rispetto a come era prima però sti cazzi lo sapete come la vedo io secondo me nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi ci sta che i giochi costino così tanto e lo so che è un un popular opinion però il discorso è che si è cominciato a parlare di questa cosa a un certo punto però gta allora deve costare di più ma quindi ragazzi non solo siete nel mood di 80 euro sono troppi ma anche di chissà quanto costa in base a che gioco è ma questa è una cosa che state facendo tutto voi e secondo me gli abbiamo dato lo porti la chance di farlo e neanche fosse 90 euro quelli lo possono fare si creerà un precedente ragazzi non è che se voi aprite un negozio e vendete una cosa che avete solo voi e va a ruba a un certo punto potete anche aumentare il prezzo secondo me rockstar due conti in questo senso se l'è fatti ma sai che c'è take two rockstar ma qua sto gta se lo aspettano come se dovesse la consacrazione di questa nuova generazione il primo vero titolo di questa nuova generazione mettiamo il prezzo che cazzo vogliamo ragazzi perché quello vendiamo lo stesso grazie andrea sarafini grazie mille quelli fanno un tavolo e una tavola rotonda e dicono ragazzi sì secondo me dalle statistiche dai dati che ho prelevato noi ci possiamo mettere anche 90 100 euro se lo comprano lo stesso esatto ma impressione mio nella comunicazione attuale dei pr dei vari studi è costante la definizione di rivoluzionare il genere di definire il genere sta diventando stucchevole da quando si doveva infilare resilienza in qualunque frase mi ricorda questa cosa molly new che dice che fai voltre avrebbe avrebbe stata la rivoluzione bisogna vedere se siamo vicini a molly new o se siamo invece stiamo parlando di cose reali ecco non possiamo saperlo finché i giochi non usciranno sia quello di noty dog e questo qua di gta 6 molly new sparava palesi cazzate per gta 6 il fatto che c'è una credibilità di fondo maggiore molly new continuava a sparare cacate anche dopo aver verificato che erano cacate insomma esatto comunque appunto gli hanno chiesto ma quindi costerà 100 euro costerà di più quello ha detto lui ha detto qualunque cifra sia non sarà comunque cioè il valore del gioco sarà comunque di più bravi non ripagherà comunque il valore del gioco bravi ecco e lui se n'è uscito con questa frase che non ha detto niente gliel'abbiamo fatta dire sta frase sì infatti bravi bravi tutti bravi comunque il commento dice gta 5 cioè intende il 6 è normale che costerà un po di più ma tanto è normale ma tanto se non il prossimo anno tra un po i giochi saliranno sicuramente a 100 euro pretendiamo troppo e giustamente costano di più fate tutto voi ragazzi e vi lamentate certe volte per 20 euro per un titolo che ne vale 8000 e poi vi poi vabbè gta è giusto per singola ragazzi non lo so mi sembrano discorsi che io non faccio perché non vi metto le mani in tasca e non mi interessa infatti quando è che abbiamo stabilito che è normale però il fatto che sia normale che giochi costino di più a questo punto mi meraviglio di tanti di voi poi che li spendiamo 100 euro per gta 6 purtroppo è vero ma perché alla fine loro si basano proprio su questo sul fatto che li spendiamo 100 euro per gta 6 però li spenderemmo però ecco non dovremmo non dovremmo chiederglielo non dovremmo darvi queste idee io quando vi dico che l'unico potere che abbiamo il potere d'acquisto è questo si concretizza anche nelle analisi di mercato che si fanno prima che il gioco venga distribuito per cui chiaramente take two queste cose le capisce dice ma qua se lo avete visto che cazzo d'accoglienza cioè ce l'aspettavamo ma non così tanto come il ritorno di zeb su youtube si aspettava secondo me tutti ci aspettavamo questo farà il botto ma non così tanto quindi adesso fa quello che cazzo vuole è normale è normale la gente dice vabbè però è però un cazzo ragazzi quando uno ha l'attenzione della sua a tutto fine a tutto grazie vasaria grazie vasaria grazie mille e poi guai se il game pass costasse due euro in più vabbè ma in realtà guarda una cosa che ha detto giusta comunque il commento di prima che si ha dato per scontato che è normale però che i prezzi si alzeranno in generale mi pare che anche perché stiamo andando incontro a questo di base ragazzi di base ragazzi la la teoria dovrebbe imporre che se un gioco tu ti è costato due miliardi per farlo si vociferava questo secondo me non saranno due miliardi ma vabbè facciamo che gli è costato un sacco di soldi in più rispetto alla più grande produzione finora mai esistita ok come li recuperi i soldi semplicemente se il tuo gioco interessa ed interessa tantissimo venderai molte più copie quindi le recuperi con un costo di base convenzionale di 80 euro sulla quantità non è che lo fai costare di più secondo me coste voci del fatto che il gioco dovesse costare di più e il pubblico tanti quando noi l'abbiamo chiesto abbiamo fatto un salottino ti ricordi su play in 6 2 tanti sì 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 gt anche mille euro mi interessa se le fa e dice vabbè sai che c'è allora facciamolo costare di più allora facciamolo costare di più questi cazzi no perché non dobbiamo farlo così se potevamo comunque stra guadagnare anche facendolo costare 80 euro perché comunque venderemo 200 mila milioni di copie comunque con 200 mila milioni di copie magari ne vendiamo 190 mila milioni di copie però comunque guadagniamo di più cioè capite creiamo noi il mercato lo creiamo noi il mercato grazie a manuola di maria no vabbè dice ragnar ce ne fossero di molly new vi ricordo che a parte qualche cacciata ha sfornato titoli come populous black e white non si sta discutendo di qui parliamo veramente di passato remoto è a parte che tu hai preso titoli veramente molto nel frattempo ci sono state altre cose si parlava delle ultime cazzate che non è stato qualche cazzata era era al limite della truffa era al limite della truffa è stato pure denunciato perché se noi andiamo a prendere a parte project milo a parte faible 3 project milo era una bugia ragazzi era una bugia quella io passavo il foglio con kinect erano proprio cacate cacate oppure faible 3 il tocco sarà rivoluzionario non era un cazzo oppure chi è che vuole giocarsi 20 chi è che vuole leggersi un libro di 20 mila pagine paragonando faible a oblivion e criticando oblivion oppure ma tanto chi se ne fotte degli elementi ruolistici in un gioco di ruolo nessuno a nessuno piacciono i giochi di ruolo diceva ste cazzate le diceva pesanti oppure ancora il godus che poi era project curiosi di infine che praticamente quello è al limite della truffa va a recuperare la questione perché abbiamo parlato tante volte ma quindi non è che stiamo discutendo molly new per i suoi trascorsi da indubbiamente validissimo game designer ma come quello che ha fatto alla fine ragazzi il designer che ha svalvolato grazie toni carrino grazie mille sì certo che uno può essere il padre di quello che vuoi ragnar però se fa cazzate se deve dire nessuno gli toglie il merito delle cose buone che ha fatto anche cose buone quello che quello che si che rimane poi è quello che ha fatto alla fine nel senso è rimane tutto rimane tutto però come siamo rimasti l'ultima volta con molly new con cazzate e quindi questo è invece firol l'ho perso mentre leggevo il commento comunque diceva non diamo così per scontato che la gente passi da ecco la transizione di gta online non è scontato che una community così grossa si sposti sul nuovo gta invece sai firol è passato a fare i loro tanto tempo secondo me ascoltate quello no io sono d'accordissimo con lui anzi dubito che la community tutta possa spostarsi a gta 5 a gta 6 per quanto riguarda l'online sì no no questo l'ho capito ma infatti vedi che comunque secondo me non partiranno subito con gta online no infatti grazie eh grazie posh grazie vasaria per mille grazie grazie di cuore vasaria cioè secondo me loro faranno un po con calma cioè intanto lanceranno il single player con la storia e tutto dopo ci sarà un aggiornamento dell'online con la base installata cioè quando tanti avranno acquistato gta 6 non so con quanta distanza onestamente però non mi aspetto proprio al day one già gta online e gta ragazzi rockstar games è nella posizione pure vi dico una cosa che farà discutere sicuramente ma non tanto oddio farà discutere non lo so ma rockstar games è nella posizione pure a un certo punto di chiudere i server di gta 5 online e di dire se volete giocare a gta online dovete giocare solo a gta 6 lo farebbero quasi tutti si lamenterebbe proprio che papà acquista gta 6 però che palla dai giochiamo forza allora dove sei io sono a miami nella costa per favore facciamo il roleplay di gta play quella è una cosa mod che arriva dopo per carità ragazzi così magari ti dicono sì noi chiudiamo gta 5 però ti permettiamo di importare buh non lo so gli extra che hai acquistato non sono molto esperto dell'online di gta 5 devo dire per cui no adesso poi non è come quello io ci giocavo però poi basta più per anni no noi non siamo giocatori gta online assolutamente ragazzi sono nella posizione poter fare il cazzo che vogliono sembra che il mondo appena c'è stata l'annuncio di gta 6 sembra che il mondo si sia fermato fermato e addirittura dicevano gli analisti soprattutto matt piscatella se gta 6 non dovesse uscire nel 2025 sarebbe una crisi nera per i videogiochi ma nel 2025 sì no loro dicono sono abbastanza sicuri del fatto che esca in autunno 2025 cioè si fidano di rockstar ma se non dovesse essere così diceva l'analista matt piscatella saranno cazzi per il mondo dei videogiochi tutto perché non ci sarà nessuna scossa forte e gta 6 è una scossa forte potrebbe uscire switch 2 già una scossa forte no piscatella dice se poi non esce manco switch 2 ragazzi perché giustamente mi state chiedendo perché mavex 98 cione e grazie intanto a rise and mikey grazie mille 48 anni sì perché crisi diceva beh ma che vuol dire gli altri continuano a sviluppare giochi allora nell'ambito dei videogiochi c'è sempre quel qualcosa che dà la scossa tutta l'industria ok c'è sempre stata ogni tot di tempo una nuova console ricordiamo la più recente scossa di terremoto fortissima è stata quella di wii se vogliamo no ma anche switch switch stessa è stata una bella scossa non si può dire di ps5 xbox rex assolutamente ps4 è stata una scossetta niente male nell'ambito video lui ha fatto smuovere insomma qualcosa ma non così forte come sicuramente wii o nintendo ds il game boy è stata una scossa il ness all'epoca è stata una scossa ha salvato una industria si detta così in realtà non è propria come cosa però diciamo di sì semplificando molto la narrazione quindi queste scosse grosse ebbene come scossa dagli analisti vengono viste nel prossimo futuro tendenzialmente gta 6 e un po anche nintendo switch 2 io non sono d'accordo perché secondo me nintendo switch 2 sarà in continuità con nintendo switch e non sarà una scossa come lo è stata nintendo switch dipende da come non ci credo così tanto dipende da come lo lanciano cioè con in compagnia di cosa lo lanciano grazie supermoreno 98 grazie supermoreno 98 ogni tot di anni ci sono state scosse nell'ambito videoludico cose che hanno fatto comprare il videogioco la console quella determinata cosa che uscita nell'ambito videoludico pure a mia madre ecco ebbene queste scosse da un po che non ci sono di quelle forti l'ultima in effetti se vogliamo è stata switch ma non è stata potente come fu wii vi ricordate che wii ha aperto il mondo alla parola casual gamer perché c'erano pure le zie e i cucini che non giocano mai che hanno giocato in effetti come dice tenaga come dice badulanut il fatto è che noi sappiamo cosa aspettarci con switch 2 sappiamo che sarà una console in continuità con switch 1 quindi magari potrà scuotere il mercato a livello di vendite poi a seconda di cosa lo vendono ma non scuoterà tanto cioè non ci stupirà a livello di innovazione probabilmente perché sarà appunto in continuità non lo scuote non lo scuote secondo me lo mantiene scosso ce lo mantiene in movimento ma non lo scuote come se fosse una bomba atomica capito la gta 6 la bomba atomica gta 6 può essere una bomba atomica nell'ambito della proprio del nell'ambito videoludico perché poi tra l'altro e questo lo diceva anche ubisoft ubisoft diceva noi speriamo che gta 6 esca al contrario di quello che possono pensare in tanti si noi abbiamo questo titolo qua in uscita quest'altro qua in uscita non temiamo che la gente non acquisti i nostri giochi perché esce gta 6 ma anzi gta 6 fa da catalizzatore a tutti gli altri acquisti perché farà avvicinare al mondo di videogiochi o riavvicinare un sacco di gente che magari non giocava più tutti quelli che magari giocavano anni e anni fa gta 5 tutti quelli che giocano solo a gta 5 acquisteranno una nuova cosa nell'ambito videoludico e costa scusa diceva iv gilmo di ubisoft acquisteranno anche i nostri giochi io non la vedo sta correlazione così stretta eh per carità però sicuramente c'è quel qualcosa che attira l'attenzione nell'ambito videoludico guarda che secondo me ma nei videogiochi cos'è successo è uscito gta 6 ah ecco perché tutti ne stanno parlando ma perché poi vediamo sti videogiochi gta 6 farà vendere anche le console esatto cioè molti che ancora non sono passati a ps5 o serie x si 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 compreranno le console di attuale generazione però ragazzi come dice esatto cione è una speranza è una speranza basata su fatti già avvenuti su cose che sono già successe ma nel frattempo è cambiato il mondo 18 volte effettivamente e quindi non lo sappiamo ma dovrebbe potrebbe essere così vediamo da un lato dobbiamo sperare ragazzi anche se non ci piace lo dico anche se non dovesse piacervi io lo aspetto tantissimo il gta 6 ragazzi perché per me gta è una serie capolavoro ma anche se non dovesse piacervi dobbiamo sperare che vada bene dice ma come una brutta grande multinazionale ragazzi quando c'è qualcosa allora se voi andate in una pista da ballo ok in una pista da ballo ed è vuota non vi viene di ballare se è vuota ok appena comincia a ballare a qualcun altro cominciano ad esserci più persone dice vabbè mi butto nella mischia prima mi vergognavo ero timido adesso ci sono tanti che stanno ballando ballicchio pure io questo è siccome è una situazione un po di stallo nell'ambito videoludico con qualche bella situazione ma comunque un po di stallo nel complesso si arriva una bomba come gta 6 fa smuovere tutto il mercato videoludico quella famosa pista da ballo che viene occupata e che quindi voi vi sentite più a vostro agio a ballarci dentro e quindi cominciate pure a giocare anche ad altro perché è successo qualcosa di notevole nell'ambito videoludico per cui in realtà queste cose fanno bene all'ambito videoludico questo è quello che vogliono dire gli analisti io sono d'accordo in realtà